Lei poi per i padroni insegna matematici? Ah sì? Io, perché erano tratte nei primi, come con i libri, con la purezza e... Dopo cominciamo a essere più, più studiata, più immagine. Quando invece l'immagine è risultata, e viene con la poca immagine che c'è, ci sono milioni di strati di sviluppi, di capi di terra, allora le prospettive si allargono sempre, e da lì puoi costruire tutto, da lì puoi costruire tutto, è fantastico. Meglio scolidare, Fia. Lui fisica. Fisica? No, ma io ho più fisica.